Visite specialistiche gratuite al nosocomio cavese, nell'ambito ginecologico, sinologico e tiroideo in occasione della festa della donna. Un invito alla prevenzione dai controlli periodici per migliorare lo stato di salute delle donne e curare in tempo malattie come il cancro. Oltre alla festa della donna facciamo queste visite gratuite, le facciamo anche ogni mese, è il terzo sabato di ogni mese. La visita è corroborata anche da un'ecografia quando c'è necessità. Quindi la donna facciamo una specie di screening in modo da poter accedere all'ospedale gratuitamente facendo la prenotazione. Per quanto riguarda invece il PAP test lo invitiamo alle donne a venire in un secondo momento. Quindi ogni sabato, ogni terzo sabato del mese perché quello che è importante è la prevenzione invece di trovarsi in situazioni di crisi o terribili. Perché diciamo che in questi tempi di crisi uno di solito tende a non fare una visita proprio per mancanza di soldi. Beh in effetti oltre a mancanza di soldi diciamo in meridione la donna, cioè proprio in meridione la prevenzione noi non sappiamo che cos'è diciamo. Quindi con questa iniziativa, grazie anche al mio primario dottore Guarino, cerchiamo di far sì che l'ospedale accolga le donne. Cioè l'ospedale viene visto sempre come un fatto negativo diciamo ecco dalla popolazione. E invece noi pensiamo diciamo che di accogliere così le donne e così in modo da far sì che l'ospedale non venga visto come un fatto negativo ma come un fatto diciamo ecco di accoglimento e di prevenzione nel riguardo diciamo per la mia specializzazione diciamo anche delle donne. Grazie a tutti.